Ho acquisito un appartamento Collegno Torracorta con cortile, adesso ti faccio dare un'occhiata. Ci troviamo a Collegno, Collegno Torracorta, e precisamente via Bussoleno numero 118. La casa è completamente ristrutturata e ha un cortile di proprietà di circa 150 metri quadri. Il cortile gira tutto intorno alla proprietà e l'accesso è direttamente dalla cucina. Ti faccio vedere, questa è la scala che porta dentro casa. Scendendo, quello che vedi, la prima cosa che vedi è questo gazebo completamente arredato. E c'è anche tutto lo spazio per il gioco per i bambini. Quindi, se stai cercando una casa completamente ristrutturata, che abbia uno spazio esterno davvero comodo, questa è la casa adatta a te.